Ok, siamo al sesto livello finalmente, io adesso laggo K, mamma mia, ok, sto laggando parecchio, infatti ci sono questi dettagli qui probabilmente, io non lo so perché non sono la cosmotica del futuro, quindi, ci vediamo qua giù. Siamo nella Paradise Parkour 2, ma perché io sto registrando in un altro momento, se vedete il time è un pochino più alto, io sono in un altro momento, sto registrando praticamente di sera, mentre l'altro l'avevo registrato di pomeriggio, ma chi se ne frega di quando registro i video, e noi cerchiamo di finire questo livello, ma... E io... Ok, qui... Ok, solo qui si può passare. Quanto sei divertente, Yank. Può sembrare a un livello facile, ma io... Ah, ma qui... Ma che stupido che sono... E... E... Vabbè, con tutte le pecorelle Jeb, ci sta dai. E a livello arcobalennoso della lana, mettiamo anche tutte le pecorelle Jeb. Ok, ok, questo fa quel salto che in realtà è facilissimo. Ok, così ve l'ho fatto. Il pro del parkour continua... Continua il pro del parkour. Allora... Ci sono dei lacri bloc... Eh, dei lacri bloc... No, ma nell'acqua non salta. Nell'acqua salta poco, dai. Ok. Cosmotic, il pro del parkour, ci riprova. Ma... Ancora lui. Può continuare. Solo lui. Riesce a continuare questa sfida. E ce la fa. Ok, qui devo risalire. Ok, ce la posso fare. Uno e due ce l'ho fatta. Ok, sai che le scale non sono troppo difficili. Per il campione. E devo fare basta di chiamare il campione. Perché non sono un campione del parkour. Eh, ah di qua. Ok. Questa parte l'ho fatta. Quindi qui nello slime block. Qui. Ancora slime block da uno. Ce l'ho fatta. Dai! Ragazzi comunque se volete vedere... La serie parkour challenge. La potrò fare anche con qualcun altro. Se volete. Potrò fare. Altre parkour. Con qualche altra gente. Qualche altra gente taglia così. Vediamo quanto sclerano anche loro. No. Ok, qui non credo che devo passare. Ma credo che devo passare qui. Quindi così. Così. Non così ma così. E proprio lì. Ok, proprio qui. Qui. Ok. 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 Ok ce l'ho fatta. Siamo in questo livello strano. Parecchio strano. E sono caduto. Come sono caduto io? Non mi dovete dire come sono caduto adesso. Ok ce l'ho fatta. Ho fatto questo salto. Così. Così. Ci possiamo fare. Ma. 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 Io. Perchè. mi. dobbiamo fare. Lo. Ma. Ma. ho. Conico. e lo sbatto mai sul tronco ragazzi comunque aggiungerò questa regola in cui noi avremo 3 bonus in cui possiamo saltare 3 livelli visto che sono 100 livelli non è che proprio voglio sclerare 27.000 livelli e quindi forse il bonus qui me lo userei e ho smesso di contare i livelli se non è un genio io ce l'ho fatta ok dopo questo livello probabilmente no no stavo laggando tutto scusi oh no ah ma è a velocità anche questa parte ma ditelo prima però dai oh ma idea ce l'ho fatta e lo so che ho detto che che stoppavo il video quell'altro livello ma mi sto divertendo troppo quindi dove devo andare beh io quest'altro ah c'è lo slimebook ok ok ma questo salto io come lo faccio ok l'ultima prova l'ultima prova sarà la prova finale del salto ho fatto un salto il salto leggendario che neanche il campione del parkour ce l'ha fatta ragazzi il primo episodio del parkour finisce qui io non so proprio bene in che livello sono ma probabilmente mi metterò tipo un numero qui quindi da Cosmotive Game è tutto noi probabilmente ci vediamo in un prossimo video del parkour challenge challenge